Ciao Nino! Ciao Pasquale! Ma cosa fai tu qui stasera al compleanno di Salvatore? Ma io oggi sono qui per cantare come al solito, però io non sapevo che tu eri anche qui. Abbiamo fatto una sorpresa tutti e due allora? Esatto, esatto. No, non lo sapevo che tu eri, mi fa piacere Pasquale. Anche a me, tutto un tratto ti vedo arrivare, ho detto oh, perché anche loro hanno fatto un po' la sorpresa, no? Esatto. Ma dimmi un po', è un po' di tempo che ti vedo un po' poco in giro, ma dimmi un po', cosa c'è sotto sotto? Allora, sotto sotto non c'è niente in giro, però c'è una cosa bellissima, è nato mio figlio otto mesi fa e io non ho fatto più dischi, non ho fatto più concerti, non sono stato in giro perché mi sono fermato per un pochino e mi sono dedicato a mio figlio e alla mia famiglia. Questa è la motivazione, però tu sai che io non mi fermo mai, non mollo mai, stiamo lavorando molto, sto iniziando a scrivere dei pezzi per l'albo nuovo e posso dire che sta venendo veramente bene. Abbiamo già tre, quattro, cinque provini che prossimamente andiamo anche a registrare. Ma ho sentito, sotto sotto voce, poco fa, che ieri sera avete fatto una bella serata con Zarella? Sì, Giovanni Zarella ormai è un amico, ci siamo conosciuti da poco tramite un amico mio che lo saluto, Salvatore Zimotti, che mi sta accompagnando lui un po' in giro per la mia carriera. Sì, ieri siamo stati a Upphaus, abbiamo fatto un compleanno di 18 anni, è stata una festa stupenda, veramente ci siamo divertiti un sacco. Ascolta, 18 hai fatto ieri sera e 18 ne fai oggi e ne fai 36 allora. 36, no dai Pasquale adesso è il solito mese che iniziamo a lavorare. La Saison, siamo mensi tedeschi diciamo Saison, si lavora e tu come sai siamo sempre in giro e ne sono veramente fiero. Ci sono un sacco di progetti nuovi che dopo sveleremo più in là, quando le cose sono più concrete. Pubblicherai. Esatto. Però i figli sono pezzi di coro allora. Certo, e io per quello che ho detto non voglio ripetermi un'altra volta sennò divento monotono. La famiglia è la cosa più importante, è una cosa... Ha cresciuto adesso già un po', eh? Sì, sì, si è cresciuto e quando canto che faccio le prove canta già lui, è un casino, si ha già un microfono in mano, fa un burdello. Allora abbiamo già il junior in cammino, no? No, io diciamo fare l'artista, guardo un padre, io prima di diventare padre non potevo mai capire i consigli che mi dava mio padre. Io oggi sono padre e posso dire, ho capito tante cose, il valore della vita, soprattutto posso consigliargli quello che lui vuole, che desidera il cuore, lo deve fare, come ha fatto sempre mio padre con me. È bellissimo quando stringi il tuo figlio vicino al tuo petto, è vero, eh? Eh sì, sì, è una cosa bella. Dopo un po' di stress, oggi l'ho visto pochissimo, ieri anche, domani siamo di nuovo in giro per questo, domani sono in Belgio, infatti vedi sono in Belgio e non ho pochissimo tempo, però quanto tempo me lo so. Fa piacere, fa piacere a sentire che sei sempre un po' dappertutto. Adesso più forte che mai, voglio dire, siamo un team che stiamo costruendo una cosa bella, una cosa bella. Io quello che ho fatto rispetto, perché sai, il mio primo disco, le canzoni del sole, il fuoco dell'amor, voglio un po' di più, vince sempre il cuore, bianchi e nero, io li rispetto, sono album, sono canzoni bellissime, ogni canzone ha una storia. Però questo album, sto lavorando con un autore che si chiama Alfredo Tetesco, che anche lui canta, che lo voglio salutare da Napoli, stiamo lavorando diversamente, un Nino Brancato diverso. Allora Nino, stasera siamo qui insieme, allora io ti faremo un po' una registrazione, senz'altro è ovvio, qui c'è il compleanno di Salvatore, è una cosa ovvia che si farà la serata, io registrerò tutto e pubblicheremo qualcosa domani e poi non so se Salvatore pubblicherà anche lui. Allora diciamo, ci salutiamo una bella serata, non ci salutiamo, non ci salutiamo all'ultimo, però ti auguro una buona serata, che vada tutto bene. Va bene, un abbraccio a tutti quanti, ciao.